AVEVO UNA FAMIGLIA UNA MUGLIE E' BELLISSIMO E' UN FIGLIO E GLI HO SEPOLTI CON TUTTI QUELLI CHE CONOSCEVO NO! CHE COSA MI E' SUCCESSO? SONO MORTO SEI BANDITO DALLA MORTE A METÀ TRA IL MONDO DELLA LUCE E QUELLO DELLE TENEBRE LE NOSTRE VITE SONO UNITE SIAMO LEGATI DALE CHI SEI SPETTRO? Io ho scritto la storia della terra di mezzo Ho forgiato gli anelli del potere Celebrimbor Il fabbro della seconda era Sauron ti ha costretto a forgiare gli anelli Ho torturato te e i tuoi familiari Forse quel dolore E' ciò che ci lega Dovevo morire Con la mia famiglia Pensavo volessi vendicarti Ma c'è solo un modo per chiudere il cerchio Sconfiggere Sauron E' tempo di forgiare un nuovo anello Il mondo degli uomini Sta finendo L'ho visto L'ho sentito Nei fuochi del monte Fato Un ramingo E uno spettro Uniti nella morte Hanno forgiato un anello Per sfidare lo scuro signore Un anello Del potere Ma il potere può accecare Chilobrama E anche i legami più saldi Possono spezzarsi Il futuro che ho visto Non deve compirsi Celebrimbor La morte ti chiama, Ramingo Cosa le risponderai? Talion E' bellissimo Dove l'hai trovato? Oh, ho ancora qualche amico a Gondor Che c'è, cuore mio? Il passato è passato Non c'è modo di cambiarlo Dobbiamo andarcene di qui Forza, andiamo È troppo tardi Siamo già morti No 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 Svegliati, Talion Lo spettro ti chiama Io ti chiamo Spettro! Dove sei andato? Ti sta aspettando Chiama il tuo Il tuo nome Talion 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 Chilobramor Talion 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 Io ti troverò. Vieni. Vieni. Non si sa ma qualcosa mi ha dato il traverso. Hai fatto morta strada. Hai sentito anche tu? Questi orchi si preparano per la guerra. A questo posto mi dai brillo. Non so chi ci sia in agguato, ma lo troverò. Ma per quanto? Spero bene che... Cerca... lo spettro. Devo essermelo immaginato. Anch'io non vedevo l'ora di provare la mia arma. Vieni, Taglio. Liberami. Devo dire di meno. Il cervello mi fa brutti scherzi. Hai sempre paura di tutti. Dobbiamo sconfiggermi. Non ho un pasto decente per me. Tiragli la cura. Cosa? Cosa è successo? No. 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 Ultime parole favore. Il Taglio. Credo di aver sentito qualcosa. Taglio. Non mi importa cosa trovo. Lo farò a pezzi. Continuiamo a cercare. No. No. C'era stato il vento allora. Pare che dovremo trovarci una battaglia altruno. Taglio. Taglio. Raggi di là. Raggi di là. Se provano anche solo a guardarmi storto, li ammazzo. Se il capo mi rimane piare via, si tro probabilmente ne è mai caldo prima di dare rai. Gah! ...e ubriacano come unicolo. Una vera ricordità. Io quello l'ho ucciso. E come se lo uccido? Lo ammazzo, lo accoppo. Ma perché l'oscuro signore sta mandando i Nazgoli in giro? Cercano una pietra veggente. Che lavoro di Strak. Le pietre sono toccate. Ahahahah. Hai che ti dico? Stiamo facendo una storia, ribellandoci contro i Pellerosa e facendo sire la mamma di amore. Secondo me era il Tarco. ...e passare la martellare pezzi di metallo per trasformarli in... metàl. Cosa è stato? Parti all'uomo! Cosa è? Un magazzino? Dave! Cos'era quel rossino? Cos'era quel rossino? L'altro giorno ho mangiato uno strano fungo Ho avuto delle visioni pazzesche Gambe che marciavano da su Teste mozzate che parlavano Un momento, cos'è stato? E c'è un fantasma nelle barri Vattengli dietro! Sì, ora! Via lì Sì, ora! 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 Non ha tutto! Non ha tutto! Sì, ora! Sì, ora! Aspetta! Sì, ora! Sì, ora! Sì, ora! Sì, ora! Sì, ora! Non è qui! Sì, ora! Sì, ora! Sì, ora! Sì! Sì, ora! Il ragno! Sì, ora! Sì, ora! Sì, ora!